no quando passa metro per piramide ho messo due di perché non so come funziona il romano ciao buon anno ma piramide qual è la fermata prima dell'anzarote e invece no basta power pagliata e ben ritornato nel vero vero podcast ufficiale del 2022 buon anno pizzette buon anno nike sio come state bene buon anno ciao pizzette ciao 2022 benvenut ciao sio ciao loro ciao amici che bello buon anno evviva mi aspettavo di sentirti così tranquillino a inizio anno mi aspettavo di sentirti più mega carico pazzo con il 99 per cento delle volte in realtà era talmente mega carico che tu hai detto comincio io la puntata e lui ti ha interrotto subito all'inizio e quindi si è già accalmato ma l'ho tolto quel pezzo non ha senso dirlo se non hanno potuto sentirlo è per quello che l'ho aggiunto io e comunque raga la domanda molto più importante è stiamo registrando il 3 januario januario avete già mangiato una pizza nel 2022 no anch'io no dannazione true power pizza l'orro e si o nick invece no qualcuno qua inizia con un passo falso e ti dirò di più ho mangiato una pizza tipica perché ho mangiato una margherita con il pesto e posso dirti era una pizza che ho mangiato si prende un voto medio però io ho bevuto insieme una cocina era il red notice delle pizze veramente red notice delle pizze no era buona normale no il mio 2022 è nato sotto il segno delle torte salate quindi non c'è ancora stato tempo per delle pizze ma stiamo sviluppando il sistema perfetto per fare le torte salate quindi penso che questa cosa andrà avanti per tempo non preoccuparti la torta salata è la pizza del tuo cuore dei milanesi del futuro ah sì la famosa torta salata di milano la pizza del forno volevo dire ma già la pizza è la pizza del forno e comunque io l'ho mangiata ieri la pizza al taglio della suocera molto molto buona come al solito al taglio ma ha fatto tagliato la pizza infatti mi sono tagliato e non mi sono messo un cerottino allora io anche nel 2022 ci tengo alle tradizioni che è una frase orribile da sentirsi dire di solito ma nel contesto di power pizza è una cosa bella quindi è ora della rubrica quante unghie vi rimangono facciamo anche io io ne ho 20 come la giornata scorsa e voi ragazzi io ne ho 22 per essere tematico con quest'anno wow sia i backup no i grissini i grissini che per il scelta ho deciso di prendere la puntata 172 non da power paiata quelli di power paiata comunque li ho letti con estrema gioia sono contento che vi sia piaciuto grazie ancora daniele fabio e dado per essere dei completi imbecilli vi vogliamo vedere anche perché scusa scusa un secondo possiamo dirlo che questa cosa non è che l'avevamo preparata loro a un certo punto ci hanno detto ora abbiamo fatto questo ed è apparso power paiata abbiamo detto vabbè possiamo regalarlo ai pizza e ci hanno detto no e noi l'abbiamo fatto ugualmente esatto su as no non fateci davvero causa per piacere non suateci luca ci scrive la vera puntata di fine anno è così bella non come quella puntata fasulla di fine anno con dado hashtag team ballo di riso dimostra che si power paiata è piaciuto ma per fortuna le pizzate sanno ancora discernere tra una puntata originale e una puntata contraffatta diffidate dai falsi esigete sempre solo power pizza originale pensavo dicessi diffidate dai romani no no diffidate solo dai hackers e hennet ci lascia un grissino che dice ppp l'unico podcast in cui i protagonisti si scusano per non avere fatto una battuta brutta in ppp cioè in che senso non ho capito le poche volte ci dispiace tantissimo quando non facciamo delle battute brutte nei momenti in cui ce n'è la possibilità e quando ho detto che the paper poteva battere the rock cioè non l'ho detto e mi sono scusato nella puntata successiva era giusto effettivamente era una grande occasione persa sì sì ho un nick noioso dice ciao ho un nick noioso ma sono di roma e mio figlio si chiama alvise quindi oh veneti you owe me one il mio compagno luca il responsabile della nordesità delle rede si trova cape canaveral per lavoro e si sente solo ha pure mangiato broccoli alfredo e una buffa lasagna per natale gli fareste un saluto affettuoso come solo voi sapete fare è uno sberleffo da parte mia per essere diventato un italiano all'estero che compra pasta barilla e rimpiange casa hashtag team tutti hashtag team pizza ciao che ridere la cosa degli italiani all'estero che comprano barilla perché costretti dato che effettivamente non ci sono altre marghe di pasta sì soprattutto che cacchio sono i broccoli alfredo ma infatti sono curiosissimo cioè probabilmente è una piscina di di besciamella in cui infilare i broccoli però sarà voi immagino burro e parmigiano come gli effettuccini alfredo ma magari perché cioè broccoli col formaggio e il burro in pratica wow a cape canaveral sì che sanno spassarsela non possono essere così cattivi dei broccoli con il formaggio e il burro mi fa solo ridere il nome però sono in america quindi probabilmente fanno schifo anche con una serie di ingredienti buoni riescono a sbagliare burro forse intendi bacon di burro comunque ciao uomo dello spazio perché penso che per lavoro a cape canaveral puoi fare solo quello ma perché stai assumendo questa cosa magari tipo fa il postino ed è là perché e porta la posta della spazio un corriere a lunghissima gittata comunque de underscore presso ci dice ciao ho guardato red notice concordo con il voto di sio ma volevo dire che in realtà spiegano al minuto tre da dove viene il nome del film e non alla fine come avevo capito io a quanto pare mi sono fatto distrarre dal la beltade di quel film no della mascella sexy di the rock io nel 2022 non ho ancora imparato quella che sta sotto è mascello mandibola entrambe ma scibola mandella ad ogni modo è situazionale nelson mandella quando lo sai dici quella giusta se no puoi tranquillamente scambiare i due termini hanno lo stesso valore cioè con è situazionale intendi cioè spara a caso il 59 per cento delle volte sarà giusto ok sì è situazionale ci scrivono da leggere epicamente e intensamente generale lorro dobbiamo distruggere l'anello del potere come facciamo dammi qua figliolo e osserva disse lorro con voce autoritaria il generale lorro lanciò l'anello tra mille pianeti e cento universi fino a centrare un mega buco nero ma signore come ha fatto chiese incredulo il soldato mille pizze con odio e rancore figliolo mille pizze con odio e rancore si pari io titolo il lorro dei signori non ho idea di cosa sia ma questo cristiano ci è stato lasciato da sono pazzo e ubriaco e mi sembrava forse il miglior cristiano con cui iniziare il 2022 è anche incredibilmente sincero ci sono stato mentre lo scrive sì tra l'altro mi è sembrato quasi di stare ascoltando un audiolibro mentre leggevi questo grissino e questo mi ricorda che la puntata è sponsorizzata da storytell ciao storytell 2022 more on that later esatto grazie di essere i nostri traghettatori del futuro dopo ve lo spieghiamo forse o forse ciò dimentichiamo nel 2022 non abbiamo imparato a dire lo sponsor come prima cosa all'inizio di un episodio ma lo continuiamo sempre a dire verso il mark dei 10 minuti in compenso lo dirò di nuovo story del sponsor grazie per il tuo service l'ultimo grissino invece lo estraggo dalla puntata di power pagliata ed è di dario cid dario cidda che dice ma quindi è il seguito di how night silk soralella quando vi è fuori che schifo e che rider allo stesso tempo esatto esatto e la risposta è probabilmente mai e farebbe molto più ridere se sapessi chi è soralella ma in ogni caso fine dei grissini perché raga oggi è una puntata non piena pienona vuota ah no ok non piena vuota se questo è l'ultimo dei grissini veramente ci spara flash all'interno di quello che è il più amato dei segmenti di power pizza da sempre che sono i nicola bernardi awards anche detti nicola bear words 2021 evviva quindi che cos'è che ci rimane di questo anno appena passato quest'anno sono prontissimo anch'io dato che l'anno scorso era stata una cosa totalmente improvvisata perché abbiamo deciso di non farli poi abbiamo iniziato a registrare ed era venuto fuori che infatti esatto 25 categorie completamente a caso quest'anno mi sono preso per tempo e detto sai che c'è categorie a caso anch'io anch'io sono in gioco yes evviva e quindi avremo tipo 40 categorie completamente personali e biasatissime come dicevi all'inizio della puntata tradizioni che vengono mantenute allora la mia prima categoria è miglior gioco che esce il prossimo anno ed è silk sorarella cioè andava messo che giustamente uscirà il prossimo anno aspetta non ho capito niente stai dicendo che silk song esce nel 2023 esatto a questo punto cioè in ogni momento del tempo ma non è un award poi è una previsione cosa cazzo c'entra cosa perché è già sbagliatissimo la prima cosa allora fermi silenzio il l'award è per in qualunque momento del tempo miglior gioco che non è uscito quest'anno ma che uscirà il prossimo nel senso il futuro è come dire tipo lo faccio domani e ogni giorno dici lo faccio domani quindi silk song si riconferma quel gioco che non uscirà mai ok ok potevi semplicemente dire il gioco più atteso tipo capito meglio perché adesso hai aggiunto delle cose e prima era sbagliato esatto ma solo perché non so parlare cioè smettetela di fare nitpicking sul fatto che non so parlare mentre faccio un podcast nitpicking beh miglior gioco dato che appunto quest'anno sono direttamente non solo i nicola bear words ma i siorro bear words niccardi miglior gioco del 2021 allora ho segnato monster hunter rise perché ovviamente monster hunter un posto speciale nel mio cuore unexpected e unpacking come sorpresa inaspettata perché un giochino che ho iniziato come per ridere e poi in realtà era mega carino e aveva anche una storia interessante ma purtroppo nessuno dei due vince l'award perché il miglior gioco del 2021 è dark souls ma non è zitto non è uscito nel 2021 ma chi se ne frega perché ha vinto l'award nel 2021 del miglior game di tutto l'ultimate universe quindi il miglior gioco dark souls vabbè io invece ho tre categorie di videogiochi visto che a quanto pare forse stiamo facendo tematicamente ho best videogioco che non credevo avrebbe mai visto la luce ma invece è viva ed è ace a torni chronicles che mi sto gustando ogni giorno tantissimo perché dura un miliardo di ore io devo ancora finire il primo maledizione gioco troppo poco e dura troppo io sono al terzo caso del secondo adesso non spoilerarmelo mi raccomando no no devo dire solo che la storia sta veramente prendendo il vapore come si dice in inglese tra l'altro sono io che sicuramente non mi ricordo quando l'ha iniziato ma nel mio cervello sono 12 anni che stai giocando questo gioco e non finisce mai è uscito in agosto wow ok è veramente lunghissimo mentre un gioco piccolino ma miglior sorpresa degli sconti dell'e shop per me va a oligia sulla switch io ci avevo giocato all'inizio di quest'anno in live dicendo tipo iniziamo questo gioco finita due ore dopo dicendo wow è già finito ma era molto bello gli avevo dato secondo me dieci fette di pizza secondo te nel senso che non sei andato a ricontrollare la cosa però certo che no ok perfetto certo che no miglior anime betrayal del 2021 si io che dice che mi compra la maschera della razer quella del per il covid e non lo fa quando effettivamente la producono top 1 anime betrayal del 2021 vero vero alex ricordami fra un'ora di comprare la roba di loro ti prego non comprare davvero mi serviva solo per questa gag non voglio quella schifezza ti prego sai benissimo che adesso te la voglio ricomprare e me la dimenticherò quindi sarà doppio anime betrayal wow la sto riguardando fast superski best sorpresa dei videogiochi cioè e da quando l'hanno annunciato non sapevamo nemmeno fosse in development e poi è uscito e l'ho anche finito metroid dread raga e beh sì bellissimo sono d'accordo uno dei miei top giochi proprio dell'anno in assoluto l'ho amato è nella classifica di tutti praticamente cioè se c'è gente che ama e gioca le cose della nintendo cioè voglio essere tranquillo che ha nei primi tre posti e spesso al primo posto quest'anno c'è metroid dread certo è bellissimo beh anche perché scusa per nintendo switch cosa è uscito di enorme no no il nuovo mario party sì vabbè lol miglior serie una categoria seria seria nonostante arcane che si è beccato dieci pizze per me miglior sorpresa midnight mess è una serie che mi sono guardato e cosa che non mi capita mai con le serie me la riguarderei anche volentieri perché è stata una cosa inaspettata di cui non sapevo niente e vorrei che ci fossero più cose scritte bene così bello io in realtà non ho midnight mess ma ho midnight diner scritto come miglior serie perché midnight diner tokyo stories è la cosa che mi è piaciuta di più guardare a livello di serie quest'anno e che l'ho riguardata più volte perché mi manca erano sono troppi pochi episodi per me io invece best ora the midnight così anch'io una cosa a tema midnight è la ora migliore perché mi sono addormentato da poco e posso dormire altre ore molte con da poco intendi che cioè sei a letto dalle nove e mezza tipo sì solo due ore e mezza posso dormire altre tipo cinque sei bellissimo quella cosa del del grissino che ci diceva di non chiedere scusa per le battute brutte non fatte l'abbiamo presa seriamente ok non ci stiamo risparmiando niente allora torniamo ai giochi scusate per l'ultima volta per me perché il best personaggio di smash annunciato cino no secondo me cioè comunque ne hanno annunciato tipo tre l'anno scorso tipo sora sora pyra e mitra e il best secondo me è stato sephiroth perché effettivamente è un personaggione e anche se boh non lo uso perché ha la spada troppo lunga mi fa paura wow che noia questa categoria non mi ricordo tu final fantasy 7 l'hai giocato se io sì non l'ho mai finito ok ok però tipo sephiroth cioè almeno una volta nella vita l'hai incontrato in un gioco l'ho combattuto ok perfetto certo beh allora un award va al miglior novax del 2021 che il dentista di piella col braccio di silicone lui effettivamente cioè se devi prendere un personaggio dell'anno è lui cioè letteralmente lui tra l'altro anche un personaggio che vorrei vedere in smash secondo me avrebbe delle grandi potenzialità tipo lancia il braccio boomerang è vero perché personifica sia appunto nel discorso pandemia e tutto quanto e sia non so c'è lo pensi e te lo immagini con dietro la bandiera italiana e 100 mandolini che suonano cioè veramente tipo mvp delle persone sbagliate wow che schifo di divertimento io direi ancora meglio di lui quelli che poi l'hanno invitato nelle trasmissioni televisive tipo giletti per intervistarlo perché vorrei mica dare più spazio a persone del genere ci sono voci di corridoio che dicono che è elegibile come presidente della repubblica ah yes e i potenziali presidenti della repubblica sono per rusconi il tito col braccio di gomma gino a sto punto dieci sassi vabbè restiamo in tema pandemia con la best variante di coronavirus la mia preferita sono state nu e xi che sono quelle che abbiamo saltato che non esistono tra l'altro best ragioni per saltarli è troppo simile a xi jinping oltre a xi jinping e anche a new che vuol dire nuovo e quindi miglior film inaspettato sono due in realtà pari merito non sono i film più belli dell'anno semplicemente miglior film inaspettato ovvero the suicides code e psycho gore man ah madonna bello perché in anni in cui tutti i film devono rivolgersi al pubblico più vasto possibile erano due film che non avevano paura di essere film di genere e quindi anziché essere tutto per tutti essere solo qualcosa per un tot di persone e quindi sono contento di questi due film e questo mi dovete dire anche voi che cosa premiereste in questa categoria best trilogia di libri sulla gente coi poteri dei terremoti per me a mani basse proprio la vice nk jamison con trilogia della terra spezzata secondo me è proprio il migliore trilogia di libri con la gente coi poteri dei terremoti miglior gioco del mistero e c'è un motivo se il gioco del mistero è aa clock smettila perché smettila di parlare di aa clock oddio mi ero dimenticato di quella cosa perché io sto continuando andare avanti ci gioco spessissimo perché voglio capire se c'è davvero un gioco segreto e non c'è probabilmente ma il mio cuore di bambino vuole pensare bello perché anche quando sono stato a casa di nick l'ultima volta tipo mi ha messo davanti a questa cosa e detto chi segreto ci sarà secondo te non c'è nessun segreto smettila con questa merda maledizione non è possibile io non riesco ad accettare la realtà che qualcuno abbia fatto un gioco per switch dove è solo un orologio ci deve essere qualcosa di più non è solo un orologio ha anche un gioccolino dentro che fastidio ma perché la mia ultima categoria per il 2021 è miglior roba che aveva già rotto le balle nel 2020 ma che comunque continuiamo a nominare e la medaglia d'oro va all'immanuel miranda che già nella prima puntata del 2021 cioè ogni volta che lo nominava sio noi emettevamo dei suoni di fastidio e di insofferenza eppure nel 2022 siamo ancora qua con sio che ok non l'ha ancora nominato oggi ma cioè sappiamo che mancano una manciata di secondi perché succeda no non ho niente di immanuel miranda nei miei nei miei best cosa comunque secondo me è molto poco professionale questa categoria non l'accetto ti prego editala fuori no non è questione di accettarlo o meno è così vabbè best film con la musica di immanuel miranda vivo io in realtà ho l'ultima vai io sono arrivato alla fine poi poi ascolto solo le vostre loro ha già detto che ha finito ho letteralmente appena detto che ho finito le categorie adesso devo anche ascoltare no miglior cosa che mi fa incazzare ribollire di rabbia essere infastidito in più momenti della giornata quasi tutti i giorni dell'anno scorso è il worst villain gli nft sì è il mio worst villain dell'anno esatto ci sta gli nft devono morire fine non possono morire nick perché anche square enix adesso ha detto che avremo gli nft nei giochi non vedo l'ora di poter combattere la shinra con le scimmie la shinra.jpg allora unpopular opinion gli nft mi fanno ridere più che arrabbiare quello che mi fa arrabbiare sono le persone che li celebrano come se fossero tipo il futuro senza tra l'altro avere capito assolutamente niente tipo semplicemente una buzzword che viene ripetuta continuamente a la blockchain è il futuro e non sanno di cosa stanno parlando ma gli nft in sé è una cosa dai è troppo distopica come cosa a me fa super ridere sì ma esiste cioè nel senso tu puoi comprare un certificato che ti dice che possiedi un jpeg che non include il jpeg dentro e che nel frattempo brucia gli alberi cioè cosa cosa mi fa super ridere scusa ti rendi conto che hanno raggiunto veramente quella permeazione della società permeazione è nuova parola del 2022 e perché letteralmente c'è una mod di doom in cui al posto dei demoni ci sono gli nft sì 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 ormai è cultura pop devi screenshotare gli nft sì esatto sono i board ape yacht club quella roba odiosa di cui tra l'altro hanno annunciato anche una serie animata che uscirà quindi cioè fastidio ma la serie animata è meglio nel senso esiste è un qualcosa che esiste a differenza di un certificato non lo so una serie animata che celebra o rende più popolare una cosa tipo già c'è ridicola in modo negativo di partenza non so se mi rende felice onestamente però guarda come è successo con league of legends ok sì se tipo lo prendono lo studio fortissimo e mettono anche sei anni per fare la serie sui nft magari viene fuori una figata non sarà così probabilmente l'altro mi manca tipo un episodio per finire l'arcane sono ipatissimo mamma mia che bello credo in te sì lo guardo dopo infatti tranquillo io ho delle altre categorie vai best film film d'animazione nonostante tutto il miglior film d'animazione secondo me dell'anno scorso e nonostante luca se lo vince imice il contro le macchine perché è bello è più bello degli altri venga messo agli atti che io non sono d'accordo ma non so se è importante che io non sia d'accordo però mettetelo agli atti è importante invece è abbastanza importante io invece posso capire la cosa ma continua no non essere d'accordo cioè il mio voto non andrebbe a quello ma io sto parlando il mio gusto esatto esatto però però ha senso come premio assolutamente allora non mi ricordo più perché quando ho scritto best film ho scritto spider man no way home perché non l'ho visto però secondo me è il miglior film dell'anno oh perfetto mi dai il gancio perfetto per l'unico loro up che ho per il 2022 no scherzo solo per questa puntata del 2022 ma un loro un loro up a metà puntata ebbene sì perché il mio annuncio per quest'anno è niente fomo per l'orro anche tipo spider man mi interessa vederlo ma non ho voglia di vederlo in questo momento negli ultimi tipo due mesi sono uscite un sacco di cose che mi interessano e che vorrò vedere ma non ho nessun interesse a parlarne o a vederli o a giocarli quando escono perché guarderò le cose quando voglia di guardarlo li giocherò quando voglia di giocarli quindi se ascoltate power pizza per avere argomenti sul pezzo cosa che tra l'altro non è mai successo beh ho una brutta notizia per voi avete sbagliato podcast però ok li stanno giocando a un gioco del game boy advance però però sì quindi anche spider man anch'io non l'ho ancora visto e sono un po curiosino di vederlo però in questi giorni in questo periodo non ho voglia quindi chi se ne frega me lo guarderò a maggio se avrò voglia di parlarne a maggio ne parlerò a maggio bello ecco semplicemente questo perché a maggio perché il suo compleanno esatto esatto sai che l'orro al suo compleanno guarda spider man sempre tutto il giorno è una tradizione una di quelle che dobbiamo mantenere hai ragione ecco questo era il mio l'orro up è la mia dichiarazione di intenti per il 2022 ok grande e questo tra l'altro mi catapulta perfettamente nella categoria best amici perché tu sei una dei due che vince l'orro e nick sono i best amici del 2021 si saranno confermati anche quest'anno o se mio nuovo amico zuppolino che è un simpatico nanetto di gesso e lì spotesterà maledetto zuppolino e best pizza quella con la crema di zucca pazza a lanzarote per me me la ricordo ancora ma infatti sì best pizza inaspettata era lanzarote l'ho anche pensato stamattina assolutamente mi dispiace ma il mio best pizza va alla diavola con le patate fritte che tra l'altro non prenderò da due mesi ma è il vero simbolo di power pizza deciso da me arbitrariamente è il vero simbolo di power pizza effettivamente tu sei il capo quindi dobbiamo solo stare a questa decisione e tra l'altro posso chiederti una domanda di loro up sulla tua best pizza e quindi best pizza di power pizza tu parli di quella normale o di quella che improvvisamente senza nessun motivo ti è arrivata grande come una famiglia no quella normale che riesco a mangiare senza farmi venire un infarto ok buh hai paura degli infarti ci sono solo due cose di cui ho paura gli infarti e cento scorpioni nelle scarpe quando mi metto le scarpe le uniche due cose che temo nell'universo attento loro hai le scarpe piene di scorpioni non preoccuparti sono 93 ma quindi parliamo di film ma io non ho finito non ho finito ancora altre categorie no basta basta ho quasi finito però ho quasi finito best meme perché è importante secondo me l'ho riuscita a continuare se vi chiedo un meme del 2021 cosa vi ricordate ma a me se mi chiedi best meme mi viene in mente quello dei leoni contro il sole che è il best meme ogni anno ma quello è best meme è come dark souls nel senso quello è best meme dell'universo però del 2021 non lo so non lo so l'unico che mi viene in mente è quello di bernie sanders seduto ok però penso fosse dell'anno prima vabbè comunque best meme divertente e best momento collettivamente in cui ci siamo divertiti come umanità ultimo momento divertente della storia dell'umanità è stato quando la ever given si è incastrata nel canale di su è effettivamente proprio un momento che ricordo con con fondness con gioia con gioia veramente tanto all'economia mondiale che collassa la crimuccia di gioia scivola lungo la guancia tutto costa il 40 per cento più improvvisamente per una nave che si è incastrata e best canzone how to be an egg dog questa la non ne parlo neanche però c'è una cosa molto importante che vorrei inaugurare quest'anno e cioè la pizza dell'anno perché ci sono delle cose che trascendono tutto anche le dieci pizze è una cosa che succede durante l'anno no dici ah bella la trilogia della terra spezzata sono le dieci pizze ok ma la pizza dell'anno è una categoria completamente diversa che dopo un po di tempo almeno al primo gennaio dell'anno dopo puoi dire ok quest'anno per me questa opera d'arte definisce quell'anno per me per esempio so di cosa stai parlando esatto per me e per esempio 2017 come pizza dell'anno a breath of the wild hai capito cioè non c'è niente più rappresentato non solo rappresentativo ma più grosso nel mio cuore in quell'anno lì però deve essere una cosa cross mediale perché cioè può essere un gioco un libro sì 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 in quel senso lì sì non cross mediale nel senso che deve essere una cosa che è uscita in multiple medias no no nel senso che il premio è cross mediale chiaro sì 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 e ovviamente sapete già di cosa sto parlando e cioè quest'anno passato se lo becca Bob Burnham con inside ovvio io non l'ho ancora visto e probabilmente non lo vedrò mai ma cioè ho visto l'impatto che ha avuto sull'immaginario collettivo quindi posso capire la cosa cioè è da tanto tempo che non mi accadeva di imparare a memoria tutte le canzoni di un album di qualcuno che non fosse l'immanue il mirando tra l'altro esatto esatto ok di qualcuno che non fosse l'immanue il mirando e comunque non lo so tutto a memoria Hamilton ha troppe parole donnazione Bob Burnham invece con inside non lo so cioè mi rimane qui nel cuore voglio solo dire che la mia pizza dell'anno del 2021 se la becca lui chiamaci Bob Burnham te la recapiteremo in casa nella tua casettina piccolina io ti chiedo scusa ma non sono in grado di assegnare un premio del genere cioè è qualcosa di troppo encompassing non posso prendermi questa responsabilità infatti sono dovuto andare nel 2017 per recuperare qualcosa degli anni precedenti perché ho detto boh cioè non mi viene in mente una roba così potente come Bob Burnham o Breath of the Wild boh magari gli prossimi anni ci sarà magari no ma quando c'è c'è allora il problema è uno che voi so che volevate parlare anche di cose in questa puntata ma prima di parlare delle cose dobbiamo parlare intanto un attimo di Storytel e io ho delle domande da farti Sio e poi avrei da commentare un attimo le nostre previsioni dell'anno scorso non le avevi ascoltate quindi toglimi prima una curiosità prima di parlare delle nostre previsioni tu prima mi dicevi che hai letto un sacco di libri con gli orecchi no aspettate so che sembra il momento dobbiamo sponsorizzare Storytel ma è la verità da nazionale comunque grazie Storytel che ci sponsorizzi ovviamente esatto questo è comunque il segmento sponsorizzato ma è comunque una cosa di cui avevo voglia di parlare sì ok perché hai ascoltato un sacco di libri giusto cioè tu che sei uno che ne consuma tanti quanti ne hai consumati quest'anno allora a me piace tantissimo avete presente Goodreads è un social bruttissimo che ha pochissimi soldi perché è un social di gente che legge i libri e quindi fa veramente schifo ah certo ci sono da tantissimo sopra io e i miei amichetti parliamo di libri tutto il giorno stupidi topi da biblioteca dico io mentre sono vestito da jock di football che bulla i nerds vai avanti scusa scusa te praticamente Goodreads ha una cosa bellissima che puoi metterti una challenge che è quanti libri vuoi leggere nell'anno sostanzialmente l'anno scorso mi sono messo tipo 12 libri ne ho letti due e quindi quest'anno ho detto no no non voglio vivere la mia vita non leggendo dei libri e quindi mi sono messo allora quest'anno hai messo due come challenge per riuscire a farla esatto mi sono messo una challenge di 24 libri in un anno da ascoltare assolutamente per favore sì io fallo per il tuo bene e il risultato è che ho letto 41 libri quest'anno bravo sì no nice ma sapete come ho fatto a leggere 41 libri quest'anno il 56 per cento dei libri cioè 23 libri li ho ascoltati su storytell e quindi sono felicissimo perché ho quasi letto un libro la settimana non è assolutamente vero cioè mancano comunque 10 settimane però c'è tanta 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 roba bella tra cui il nostro power pizza the gum 3 quello non canto come libro ti prego ah no non conta allora neanche io ho letto dei libri quest'anno dannazione ho solo riascoltato te gum 3 ma non l'ho segnato come libro che ho letto assolutamente però mi sono recuperato anche tipo dei classici tipo appunto vi parlavo di orgoglio e pregiudizio di roba pazza alla ricerca di nemo alla ricerca di no non ho contato quelli altrimenti ho letto 400 libri e 300 sono tutti la ricerca di nemo tra l'altro è uscito di nuovo la ricerca di nemo cosa vuol dire sempre su storytell tipo detto con le parole un po diverse da un'altra persona non ho capito perché però vabbè ma ancora i suoni buffi è la vera domanda ma diversi è una cosa che schifo mi dispiace e non c'è il barracuda che fa paura vabbè comunque sì mi sono letto dei classiconi mi sono appunto recuperato lolita oppure mi sono ascoltato l'ultimo libro dell'anno è stato l'invenzione di noi due di matteo bussola che ho comprato fisicamente tipo tre anni fa l'ho beccato su storytell e ho detto ah ok cinque ore le posso ascoltare e c'è lui che lo legge mi sono letto un sacco di libri di autori autrici coreane che fanno cose pazze cioè è bello perché se vi piace l'inglese secondo me riuscite a esercitare le lingue e soprattutto a leggere i libri non so i libri sono belli a me piacciono i libri voi piacciono i libri ragazzi a me piacciono i libri purtroppo io sono stato un lettore pigro quest'anno però questa cosa che mi hai detto devo dire che mi prende bene e visto che siamo ancora all'inizio dell'anno e posso effettivamente fare ancora i buoni propositi per l'anno che poi ovviamente disattenderò ma questo sembra invece un buon proposito che potrei seguire sai che c'è ti copio quest'anno si io provo anch'io a fare questa cosa di stabilirmi un target di libri perché io nel 2021 mamma ti prego non ascoltare questa parte perché è imbarazzante ho letto tipo cinque libri mi vergogno tantissimo di dirlo ma è stato così quindi è inutile negarlo ci sta cioè funziona così c'è la vita moderna è così il capitalismo la fiesta non ci vedo più della fama io mi sono letteralmente licenziato dalla cucina per avere più tempo per fare le cose quindi ok proverò anch'io questa cosa e soprattutto se volete ascoltare le cose su storytell vi ricordiamo che se siete studentesse o studenti e studiate in un ateneo o in una scuola avete bisogno di studiare in un ateneo ed in una scuola per essere degli studenti è vero esatto magari studi le cose però per conto tuo non hai lo sconto se siete iscritti a una scuola o un ateneo che vi dà un id studente che potete registrare su sheer id potete utilizzare quello stesso id per iscrivervi a storytell con lo sconto studenti che vi garantisce il 50 per cento di sconto che sono un botto di punti percentuali di sconto tantissimi punti che si può usare fino a quattro anni di seguito abbiamo scoperto quella cosa non potete rimanere studenti per sempre non andate cento anni fuori corso solo per avere tipo gli audiolibri a meno prezzo ma finché siete studenti o studentesse potete usufruire di questo sconto che è una figatona quindi nello scontino dell'episodio come al solito trovate il link a storytell anche perché altrimenti se non siete degli student veri ma frequentate l'università della vita potete comunque andare su www.oleorecchie pienedilorro.com e comunque beccarvi una prova di storytell gratis per 30 giorni sì esatto sì l'università della vita io il mio compagno di banco tizio con il braccio di gomma ma certo ma certo c'è anche il nanetto di gesso che vuole spodestarci come migliori amici struffolino come si chiamava non mi ricordo più è caduto dalla finestra si è rotto lorro so che tu hai hai messo questo buon proposito giù cioè parole su etere di non avere avere un 2022 senza fomo voleva dire nero su bianco detto parole su etere ha senso cosa succede nel cervello di nick dicevi scusami no cioè dato che tu hai deciso di avere un anno senza fomo e io non ho deciso questa cosa la mia fomo mi ha fatto dire anche loro vuole fare una reading challenge beh allora anche io quindi parteciperò anche io scegli un numero di libri e io lo metterò wow allora io sparo basso perché spero anch'io che tu spari basso secondo me la cosa buona è sempre 12 libri uno al mese e così al massimo se ne leggi 40 non è che ne leggi meno sì dai allora farò così giusto consiglio ci sto ok farò 12 libri è un po imbarazzantino comunque perché sono molto pochi però dai bisogna pure partire da qualche parte esatto io letteralmente mettendomi il 24 ho detto ah voglio superarlo voglio fare il doppio voglio fare 48 e non sono riuscito purtroppo però adesso mi metterò 41 come obiettivo e non riuscirò a farlo perché bocca drò almeno sei riuscito ad ascoltarne 41 e zuppolino è morto sono due cose positive esatto accadute di recente fate anche voi le challenge su goodreads e fatevi aiutare da storytell a barare sulle challenge non barate cioè li leggete davvero ciao storytell ok previsioni dell'anno scorso cioè non mi dilungherò su questa cosa però cioè io volevo solo dire che le previsioni che avevamo fatto io e seo erano tendenzialmente non sbagliate a parte quelle mie sbagliate che sono la maggior parte a parte quelle mega sbagliate però nel senso c'erano che ne so è uscito il trailer di monster hunter rise e io ero preso bene dicevo sarà molto bello spoiler è stato molto bello il suo che parlava già della serie di zero calcare dicendo a lui che doppia tutto a che animazione fatta bene erano tutte cose vere ovviamente ci basavamo su qualcosa perché c'erano già dei trailer però non dicevamo cose completamente fuori di testa dove stai andando a parare sei benissimo dove stai andando a parare nick allora ha iniziato l'anno dicendo silk song esce il 14 febbraio silk song esce tra poco ed ero riuscito a dire che il film di monster hunter sarebbe stato bello cosa avevo detto questa cosa ti faccio un applausino la tua lungimiranza wow ascoltate power pizza per altri consigli e previsioni sugli anni completamente azzeccate la mia previsione per 22 è uscirà almeno un gioco in generale no comunque io mi ricordo che ho detto vabbè super nintendo world che non rimane aperto nemmeno un mese perché aumentano 100 volte i casi coronavirus l'hai presa eh sì ma dopo ha riaperto e soprattutto adesso il giappone non chiedetemi come ma non ha più il coronavirus per qualche motivo arcano boh spiegatecelo per favore giapponesi poi viene mostrato un trailer di metroid 4 che a quanto pare no ma esce metroid 5 esatto l'avevo detto io è successo ok avevo detto metroid prime 5 però vabbè insomma se glissiamo sul fatto che ha detto prime è uscito metroid 5 l'orro guadagna 100 euro me li do da solo tipo esatto adesso te li paypallo subito o te li è nft io e ho scritto non viene mostrato un trailer di botv 2 zelda breath of the wild 2 e invece ci hanno fatto vedere un trailer che è l'unica cosa che ci hanno fatto vedere non si vede ancora la faccia di link punto di domanda punto di domanda punto di domanda sarà link sarà di sicuro link ma soprattutto ma soprattutto secondo me rischia di non uscire nemmeno quest'anno botv 2 ve lo dico qua anche io potrei vedere lo primo quarto 2023 così per non sapere né leggere né scrivere sì perché i giochi di zelda c'è un linee frega niente di quando escono vogliono solo finirli e poi escono è ma infatti stavo pensando zelda non è mai uscito nei periodi tipo salienti dell'anno delle vendite cose eccetera quindi boh probabilmente primo quarto 2023 ci sta e comunque sì ok le tue previsioni magari non erano tutte giuste ma almeno avevi iniziato il 2021 parlando di veganella che era il paese in piemonte senza sole non ho idea del perché tu ne avessi parlato ma ne hai parlato e ne hai ascoltato quell'episodio e ho detto che cosa di cui mi ero dimenticato bravo sia il best paese senza sole ho anche detto che verrà annunciata una trasposizione in live action di star wars tecnicamente è successo abbiamo the book of bob fett e basta e basta però io sono diventato un fan di star wars e adesso non vedo l'ora di vedere il nove ah giusto perché effettivamente il mese scorso è uscita la nostra speciale su shrek e soltanto shrek come film del natale e questo mese finalmente possiamo concludere la nuova trilogia con l'episodio speciale di star wars episodio 9 non vedo l'ora che tu lo vedassi io ti giuro sono genuinamente hypato sono voi sette anni fa non so quando è uscito no non eravamo hypati neanche in quel momento ma sarà un momento molto importante della tua vita ceriscialo con cura e quindi io semplicemente le previsioni del 2022 mi sono scritto non fare nessuna previsione perché il futuro non esiste bravissimo esiste solo il presente vi prego non pensiamo al futuro che mi viene l'ansia no infatti infatti oggi possiamo sopravvivere in questo momento le vostre scarpe non sono piene di cento scorpioni piccoli passi una cosa alla volta yes le previsioni del 2022 è respirare e mangiare esatto esatto bere dell'acqua oh giusto mantenetevi idratato importantissimo e vedere alcuni film nick hai visto un film sì che ho visto un film anzi l'ultimo film del 2021 per me è stato un film che a quanto pare non ha visto nessuno di cui non parla mai nessuno e che non ha completamente travolto i media di tutto il mondo che è don't look up l'hai visto anche tu sia sì me lo sono per l'occasione ho messo il proiettore per terra l'ho guardato sul soffitto così l'ho guardato looking up oh wow aspetta è davvero no non sono mega stupido cioè sono mega stupido ma non ho fatto questa cosa letteralmente è una cosa che potresti fare cioè capisci che la mia domanda era legittima voglio dire lo era lo era io invece è successa la classica cosa dall'orro cioè ero incuriosito poi me l'hanno consigliato cioè non me l'hanno consigliato più di due persone mi hanno detto oi devi guardare questa cosa io ho detto ok not happening almeno fino alla fine del 2022 però la cosa che mi ha stupito è che ne ho sentito parlare o come di una cosa brillante o come della cosa peggiore mai esistita e quindi sono qua che non ho idea di se possa esservi piaciuto o meno allora don't look up cos'è allora cos'è innanzitutto è un film di adam mckay che è lo stesso regista di the big short e vice quindi credenziali ottime sì scritto da lui stesso sì e no nel senso the big short è bello ma è strano sì però è bello comunque don't look up è un film in cui due scienziati scoprono che c'è una cometa che belle le comete ma la cometa sta arrivando verso la nostra terra quanto è grossa questa cometa è una cometa di quelle che chiamiamo planet killer il livello estinzione dell'umanità se questa cometa arriva fra sei mesi non se c'è già all'inizio del film si dice ok questa cometa si schianta sulla terra giusto punto quindi abbiamo sei mesi per fare in modo che qualcosa non lo so ci protegga o per attuare un piano perché se no fra sei mesi ci estinguiamo andiamo dal presidente degli stati uniti che è un imbecille un imbecille interpretata da meryl streep ah wow sì io amo meryl streep cosa il capo del gabinetto nonché suo figlio e jonah hill e ho dimenticato di dire che i due scienziati sono di caprio e jennifer lawrence ma tra l'altro esatto l'unica cosa che so di questo film che ha un cast completamente delirante sì sì è follia pura ci sono troppi nomi giganteschi di 75 milioni di budget di questo film 74 e mezzo sono soltanto i cachet degli attori ma infatti cioè cosa è costato meno questo di red notice cosa come è possibile no ma aspetta 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 io avevo guardato il budget di don't look up e era molto di più no e non è vero hai ragioni tua mi sto confondendo scusa nick prego tranquillo comunque vanno dal presidente degli stati uniti interpretato da meryl streep e dicono tipo ehi facciamo qualcosa non ci estinguiamo e gli scienziati non vengono presi seriamente e succedono cose non giustamente non dobbiamo spoilerare il film per quelle due persone che non l'hanno visto che non hanno un'opinione fortissima su questa cosa una sono io esatto no il concetto però è se io spiego velocemente quello che è il mio gripe gigantesco con questo film perché a me non è piaciuto la regia no no a me non è che non sia piaciuto a me ha fatto proprio infastidire same cioè mi ha dato fastidio fisico mentale uguale è stata un'esperienza orribile perché trovo che sia una premessa molto intelligente ossia ehi guardate la scienza ci dice delle cose e per un motivo economico per un motivo politico per un motivo sociale eccetera la gente non ascolta la scienza wow che incredibile metafora di quello che è stato il coronavirus di quello che è il surriscaldamento globale di come non stiamo prendendo sul serio i nostri scienziati però hanno scelto in questo film partendo da questa premessa di svolgerla nella maniera più stupida possibile vero cioè ovvero cosa intendi con stupida è uno di quei film in cui a me viene da dire adam mckay quando l'ha scritto e quando l'ha girato ha proprio detto ok il mio pubblico è stupido e quindi gli devo dare delle cose talmente sopra le righe talmente facili da identificare talmente delle macchiette di personaggi che rappresentano solo una cosa e che sono il sunto di tutte le cose stupide cioè io l'ho trovato fastidiosissimo sì ma ricordati che questa cosa tra l'altro probabilmente è stata scritta più o meno durante l'era trump e poi è stato filmato esistono e sono esistite delle personaggi che sono delle macchiette che dicono cose mega matte pazze e diventano dei presidenti degli stati uniti quindi non è affatto inverosimile capisco che faccia mega arrabbiare e io mi sono reso conto che mentre lo guardavo ero tesissimo perché ero arrabbiatissimo però per me è quasi una cosa che mi valorizza l'efficacia del film nel senso che posso farvi solo una domanda questa cosa che state dicendo il fatto di essere infastiditi durante la visione cioè secondo voi è una cosa voluta fatto apposta ok secondo me sì quindi in realtà posso anche cioè sentendolo solo descritto posso anche vederlo come una cosa positiva tra virgolette nel senso che se quello che vuole darmi il film è quello e ci riesce esatto appunto per lui no non sono d'accordo nel senso è sicuramente voluta ma non è intelligente come modo di affrontare la situazione elaborate esatto cioè anche nel voler mostrare questi news cycle assurdi il fatto che tipo non so un presidente degli stati uniti possa reagire verosimilmente in questo modo anche nel voler mettere in scena questa cosa dove nessuno ascolta ad una roba ovvissima che è letteralmente nel cielo cioè lo so che volevano creare questa tensione ma secondo me l'hanno fatta nella maniera proprio più stupida possibile non riesco a trovare una parola diversa con cui definire questo film se non stupido giuro non è per romperti le scatole che stai ripetendo lo stesso concetto però non riesco a capire perché ripeto non l'ho visto quindi appunto semplicemente curiosità cose che vi posso chiedere perché sul fatto tipo la meteorea che è in cielo e quindi è lì è incontrovertibile che esista lo stiamo vedendo anche adesso che c'è ci possono essere delle cose che abbiamo davanti al naso e comunque tipo la gente nega la loro esistenza quindi esatto boh cioè sì assurdo ma neanche troppo infatti secondo me è questa la nostra fondamentale il nostro fondamentale disagreement sul film nel senso che ho provato le stesse identiche sensazioni e penso che sia la bravura di adam mckay nel trasportare quello che ti genera il genere umano nel cuore se lo vedi avere a che fare con dei problemi più grossi di di esso perché noi genere umano siamo bravissimi a creare delle cose enormi che poi non sappiamo assolutamente gestire come non lo so aggiungere co2 all'universo e poi morire soffocati a scusate ora sono sopra le mille parti per milione quindi sto parlando in maniera un po più però secondo me il fatto che sia fatto così è accentuato dalle scelte di regia a una regia che sembra editato per essere un film pubblicato su youtube che ti deve sempre fare un taglio ogni mezzo secondo e fa tantissimi tagli su dei dettagli che pensi che siano inutili oppure continuamente per spostarti l'attenzione da tutte le parti proprio per dimostrare la sua stessa teoria che devono esserci degli escamotage per prendere l'attenzione della gente e anche così comunque potrebbe non funzionare la regia è stranissima no la regia è super strana i montaggi con tipo le parti di tiktok e di facebook eccetera sono terrificanti secondo me ma poi ci sono anche tutta una serie di scelte che non posso discutere senza entrare negli spoiler e mi andrebbe di non farlo che secondo me sono terrificanti che io ho trovato veramente fastidiosa in più tra l'altro apro una parentesi non guardatelo in italiano chiunque abbia fatto l'adattamento io l'ho guardato in italiano con martino e mia mamma due ore di film percepite 65 veramente tipo anzi a livelli altissimi perché non c'entrava niente il doppiaggio e l'adattamento con la recitazione dell'attore era tutto slegato e fastidioso forse era questo il problema principale che hai avuto col film beh incredibile quanto un doppiaggio fatto a caso possa rovinare la visione di un film no no ma proprio cioè rotto completamente il giorno dopo l'ho guardato di nuovo in inglese ok perché ho detto sono così infastidito magari è una situazione di doppiaggia mi ha infastidito fatto ugualmente e ci trovo veramente dei problemi grossi che sono poi secondo me anche uno dei motivi per cui ha avuto così tanto successo nel senso che un'altra delle cose fastidiose è stato che la ricezione è stata o quelli che come me dicono è inqualificabile mi ha dato fastidio o quelli che dicono dovrebbe essere messo nelle scuole la cosa che ho letto di più negli ultimi giorni dovrebbe essere proiettato obbligatoriamente in tutte le scuole questo è un documentario su come la politica non ascolta la scenda non esageriamo infatti è solo che tipo ci sono solo opinioni polarizzanti quello come ormai succede sempre quando esce qualsiasi cosa che diventa popolare no non succede mai non esistono zone di grigio ti dico un'ultima cosa prima che tu possa concludere perché secondo me diventa sempre più ciò che stai descrivendo verso la fine nel senso che inizia con un tono e poi effettivamente forse esagera un po soprattutto verso proprio il finale diventa quasi di fantascienza pure dici ah vabbè credevo fosse un po più ancorato alla realtà è ma è quello ma appunto ma è solo alla fine secondo me che smarmella un po troppo anche perché cioè è semplicemente che stava accelerando e poi a un certo punto dice vabbè dai tutto in vacca però è semplicemente il risultato di ciò che sta accadendo nel mondo quindi smarmella tutto perché stanno tutti per morire quindi boh ho capito ho capito però allora premesso che la scena finale hai ragione è proprio una vaccata sì però ci sono una serie di altri archi narrativi che vengono sviluppati dalla metà del film in avanti che veramente non servono a nulla e non aggiungono niente cioè arianna grande sì che cosa mi rappresenta in questo film timothy chamalè che cosa mi rappresenta in questo film aspetta un secondo arianna grande cioè è un personaggio ottimo nel senso che dimostra che tipo servono delle persone dell'entertainment che convincano delle cose della scienza perché la gente non ascolta gli scienziati e serve una tizia che gli canti le canzoni della scienza certo potevano fare un cameo più piccolo ma e quindi dobbiamo sorbirci tre minuti di letteralmente un videoclip di una canzone di arianna grande per questa cosa vabbè ma la canzone cioè porta avanti il film cioè ci sta comunque mi sembra di capire che cioè i tuoi problemi maggiori stiano più con come è realizzato che non tanto il contenuto del film in sé perché cioè la cosa su cui siete d'accordo è che vi ha generato fastidio soltanto che non so da come sta argomentandosi io cioè mi sembra appunto comunque una cosa voluta e intenzionale boh cioè il fatto che ne parli come di un film stupido cioè mi sembra di capire che sia più nel come è sviluppato cento per cento sì ok ok sicuramente è un film che aveva delle potenzialità di cento e ha un 65 un buon 65 però effettivamente con sta gente con questo tipo di storia potevano fare di tutto roba fighissima e hanno fatto una roba bella ma secondo me butto qua un voto da massimo sette fette di pizza con le acciughe buone le acciughe buona però allora premesso che il mio voto quello che mi ho segnato erano due fette di pizza con le comete perché l'ho odiato ma la versione in italiano si guadagna una nuova cosa che è zero pizze c'è l'alternativa di 10 pizze e zero pizze che non credo che sia una cosa nuova sono piuttosto sicuro che l'abbiamo già usata ma tanto chi se ne frega nessuno se lo ricorderà è una cosa nuova del 2022 adesso ho deciso che è una cosa nuova bravo nick che ha inventato un nuovo gimmick no e se non lo fosse siamo solo rispettando delle tradizioni quindi siamo comunque in bolla bravo bravo evviva le tradizioni no voglio dire zero pizze vuol dire che tipo ti invitano a mangiare una pizza vegana ti dicono guarda in quel posto si mangia una pizza vegana fighissima c'è tutta la mozzarella che tu possa mai sognare nella vita la mozzarella arrivi ed è una macelleria e c'è un macellaio che ti picchia con un salame quello è stato per me l'esperienza di guardare don't look up in italiano e poi ti offre una coca cola per raffreddarti e invece contiene lo strutto è una lattina di salame anche quella guarda vi giuro non avevo intenzione di guardarlo ma mi avete incuriosito solo perché e nick sai che lo dico con l'amore nel cuore secondo me tu delle volte hai delle difficoltà a distinguere tipo tra le cose di pancia e le cose tipo più obiettive quindi sono curioso di vedere se è questo il caso o se veramente poi me lo guardo e dico ok no aveva ragione nick ed è veramente una sola nonostante quello che volesse fare sì ti prego guardalo perché il tuo parere è uno di quelli che sicuramente mi interessa sentire a riguardo ok nel frattempo una cosa bella che rimane nel 2022 è il fatto che stiamo registrando power pizza che possiamo continuare a farlo anche quest'anno grazie alle persone che non hanno mai smesso di supportarci nemmeno quando li abbiamo truffati con una puntata in romano quindi sì è il momento della festa del grazie dove ringraziamo le persone che ci ascoltano ci supportano ci mandano i messaggini con scritto siete grandi siete forti vi supporto sempre vi ho sempre nel cuore non è mai successo questa cosa io ve li mando sempre a voi due sostanzialmente prima ringraziamo i calzoni poi ringraziamo tutte quante ma io comincio a dire grazie a born to do born to do born to be h born to be h grazie alla botte piccola padova grazie nardaz quello di tiktok grazie nikki e maes paolini sovramania grazie once upon a sam sarà a o swin a o de roma dopo power payata a o a o a o hashtag team dado oh no sarà la prima volta che dobbiamo fare il rimborso a un calzone perché io non voglio più sarà tra i calzoni grazie a silwin 85 grazie a tempo che cita a chela dicendo buona caccia tutti quelli che rispettano la legge della giungla sono contento che almeno abbia abbandonato tipo tutta quella linea narrativa di lui che sale al potere wow gennaio è tempo per lo scautismo a quanto pare e grazie psycho light grazie calzoni grazie grazissimo a tutte le persone che ci supportano su www.dateci dei soldi.com e alle persone che ci ascoltano anche nel 2022 sul nostro nuovo sito sgargiante che non è nuovo perché ce l'abbiamo da mesi www.powerpizza.it e per tutte le persone che ci seguono anche sul nostro bellissimo sfavillante eccezionalmente bellissimo account di instagram at powerpizza podcast 1 1 1 2 2 2 3 3 3 grazie e inoltre ultimamente gli stream facciamo gli stream su twitch su powerpizza punto stream io ho giocato a tutto rhythm tengoku quello del gameboy advance allora regà dobbiamo smettere di pubblicizzare twitch cioè facciamole live ma non diciamolo per senso della vergogna di power pizza perché siamo le persone più discontinue che esistano ma non importa allora sì però una persona che magari non lo guarda live magari l'ultima settimana non ci ha guardato c'ha tipo 10 ore di powerpizza che gioca ai videogiochi ok ok va bene allora andatevi a guardare se io che gioca a rhythm tengoku che è molto bello sia come live che come gioco mamma mia e l'ho giocato scusa devo devo flexarlo anche qua perché sono così orgoglioso di averlo fatto funzionare ho comprato una cartuccina del gameboy advance che si collega a una roba usb e crea un contatto cioè bluetooth un contatto bluetooth sì non è bluetooth non è affatto bluetooth e il gameboy advance diventa un controller wireless con cui ho giocato a un gioco al gameboy advance emulato di cui comunque possiedo la cartuccia perché non sono illegale e niente basta è una cosa così specifica che rende felice solo me ma io ne sono felicissimo però sono anch'io felice che tu sia felice esatto reso felice te e tutti i bambini nel mondo che ti hanno guardato giocarci powerpizzette e pizzette normali e ascoltatori ascoltatrici casuali alla prossima settimana dall'orro è tutto buon 2022 pizza e chiudo da nick è tutto ciao siete bel un podcast veramente bellissimo guarda ve lo consiglio proprio punto com